Buongiorno, bentornati e bentornate al quinto episodio Digitech, una miniserie in cui stiamo esplorando quali sono gli aspetti tecnologici di una moderna piattaforma per le assicurazioni. Io sono Ivano Mantegazza e sono un Solution Consultant di Guideware Italia. Nello scorso episodio abbiamo affrontato con Massimo una tematica relativa all'aggiornamento della piattaforma e quindi come tenerla moderna e al passo con i tempi. Oggi andiamo invece ad affrontare uno di quei temi che, come dire, ci tieni svegli la notte, la sicurezza. Un tema importante probabilmente richiederebbe anche più di un episodio, ma noi in pochi minuti cercheremo di andare a sviscerare almeno i punti cardine di questa veramente importante tematica. Per fare questo qui con me c'è Luca Scarano che è direttore Solution Consulting Cloud di Guideware in EMEA che per me è un riferimento su questo tipo di tematiche così importanti e delicate. E quindi parto subito col botto andando, come dire, a toccare l'elefante nella stanza e ti chiedo ma è sicuro per un gruppo assicurativo esporre i propri sistemi core così fondamentali in rete? Beh, in effetti con l'espansione, con lo sviluppo dell'economia digitale abbiamo visto che tutti gli operatori tendono ad aprire molto di più i loro sistemi informativi. Le compagnie aprono i sistemi informativi verso i fornitori, verso i partner, verso i distributori e allo stesso tempo sulla scia, diciamo, della crisi sanitaria, l'aumento del telelavoro e della dematerializzazione hanno fatto sì che il cloud oggi sia entrato proprio nella nostra vita quotidiana, quindi lo vediamo con i telefoni, i televisori o le auto e allo stesso tempo effettivamente anche la cibercriminalità è entrata a far parte integrante della nostra vita. Quindi ci chiediamo è sicuro investire, mettere questi sistemi core su cloud? Noi pensiamo di sì e questo per vari motivi. Il primo è il motivo di competenze, cioè come sappiamo tutti i fornitori di piattaforme cloud e gli editori di software SaaS investono enormemente nella sicurezza. Abbiamo noi dei team di esperti di sicurezza che monitorano tutti i sistemi e tutti i dispositivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per mettere in evidenza, per analizzare e per mettere in evidenza delle vulnerabilità eventuali che possiamo ritrovare nel software. Il secondo punto è che i sistemi SaaS aggiornano continuamente i software. Noi Vanno sappiamo molto bene che un buon software deve essere aggiornato in maniera continua, sia per dare nuove funzionalità agli utenti ma anche per inserire quei correttivi di sicurezza che sono fondamentali e questo chiaramente significa fare dei patch in maniera continua sui sui sistemi e su tutti i dispositivi. Un terzo aspetto è la protezione dei dati e qui non parlo semplicemente della protezione diciamo del data center chiaramente, questo controlli di accessi, telecamere di sorveglianza eccetera, ma parlo proprio della protezione fisica dei dati e quindi negli editori di software SaaS tipicamente mettiamo, implementiamo della criptografia end to end e forniamo anche tutti quei processi di gestione delle chiavi criptografici che sono un po' complessi come tu sai dobbiamo fare una rotazione delle chiavi eccetera. E l'altro aspetto molto importante è la conformità e la certificazione. Noi siamo soggetti in quanto editori SaaS e oppure anche quelli fornitori di soluzioni cloud, siamo tutti soggetti a delle audit e delle certificazioni indipendenti e continue, quindi che sia per la protezione dei dati personali GDPR o anche delle certificazioni internazionali come ISO 27001 oppure quelle che stanno arrivando che sono NIS2 e Dora. Beh insomma è possibile quindi mettere questi sistemi anche se sono così importanti in rete, questo già ci rassicura e appunto è un processo continuo che non finisce mai. Andiamo ad esplorare un po' meglio quali sono appunto le minacce da cui ci dobbiamo proteggere. Diciamo che che siano sistemi locali o che siano sistemi cloud in effetti siamo tutti soggetti a delle potenziali vulnerabilità. Che siano queste per, che ne so, una rete VPN non protetta oppure per semplicemente il fattore umano che è responsabile in molti casi degli incidenti o dei furti, di violazioni diciamo di dati personali. Se guardiamo il panorama europeo per esempio e in particolare in Italia sappiamo tutti che il ransomware sta avendo crescite esponenziali e credo che il 95% delle violazioni di dati personali sia veramente dovuto a degli errori umani. In tanti casi i pirati informatici sfruttano in realtà delle vulnerabilità nel software che sono già state risolte. Gli editori di software magari hanno già messo in linea dei patch o hanno pubblicato dei bollettini di allerta e qui mi riferisco per esempio a delle soluzioni come Lock4j o Exchange o VMware Confluence e quindi questo significa che dobbiamo effettivamente aggiornare continuamente i nostri dispositivi e tutto lo stack software. Un altro aspetto è che circa 20 per cento degli attacchi informatici in realtà utilizzano delle tecniche sconosciute e questo ci diciamo mette in evidenza il fatto che dobbiamo continuamente aggiornare le nostre politiche di sicurezza e utilizzare software sempre più sofisticati per rilevare queste vulnerabilità e difenderci dalle minacce. In generale tutti questi attacchi informatici o diciamo l'80 per cento di questi attacchi informatici sono volti a dei guadagni illeciti e quindi utilizzano delle tecniche di phishing, dei furti di dati personali o furti di dati bancari, delle estorsioni quindi attraverso dei ransomware oppure dei furti di carte di credito e altri mezzi. Insomma un catalogo di minacce abbastanza ampio e che mi sa è destinato anche a crescere con l'evolversi delle tecnologie e a questo punto in parte ce l'hai già accennato quali sono diciamo le contromisure che possiamo mettere in atto per proteggerci e minimizzare o ridurre a zero se fosse possibile tutti questi rischi? Beh diciamo che non esiste la soluzione miracolo, quello che dobbiamo fare è di utilizzare diciamo un approccio multilivello per la sicurezza che diciamo è basato su varie tecniche, la prima chiaramente è stabilire delle buone politiche robuste delle misure di sicurezza quindi questo significa per esempio la gestione delle password, la gestione dei ruoli e delle permissioni, il logging per esempio come facciamo il logging, come facciamo i backup dei dati, la crittografia end to end eccetera. Secondo dobbiamo utilizzare delle tecniche sempre più avanzate per l'identificazione di questi pattern di minaccia. Il terzo aspetto è che dobbiamo lavorare sulla consapevolezza degli utenti e il quarto aspetto è che dobbiamo avere delle misure di risposta agli incidenti rapidi ed efficaci. Negli ultimi anni poi utilizziamo sempre di più delle tecniche di intelligenza artificiale chiaramente sfruttando la capacità di questi motori di machine learning per analizzare il traffico dei dati e quindi identificare dei nuovi pattern e per poter poi rilevare le minacce in maniera efficace. Beh insomma il catalogo delle minacce è ampio ma anche il catalogo delle contromisure quindi insomma abbiamo delle soluzioni per questi problemi. Poi ogni tanto viene da pensare che tutte queste problematiche siano legate alle piattaforme moderne che sono esposte in rete e quindi uno pensa ah beh si stava meglio quando si stava peggio e quindi che una volta le piattaforme fossero più sicure ma sarà poi vera questa cosa? Ma io penso che non sia corretto pensare che o dire che ci stava meglio prima perché i sistemi erano più sicuri in realtà come vediamo la cibercriminalità richiede un'attenzione continua e c'è un'evoluzione continua delle tecniche il mondo di oggi è molto diverso dal mondo dei primi anni 2000 per esempio come dicevamo basta pensare all'evoluzione, allo sviluppo dell'economia digitale, al telelavoro eccetera quindi in realtà è una sfida continua e come dicevo bisogna veramente avere questo approccio multilivello incentrato sulla formazione degli utenti, definizione e rispetto di misure di sicurezza robuste un processo per la gestione degli incidenti rapido e soprattutto aggiornare il software e tutti i dispositivi grazie Luca, come dire le tue parole ci hanno anche rassicurato e come dicevamo all'inizio sono problemi che non ci fanno dormire la notte, le contromisure ci aiutano a dormire sonni un po' più tranquilli per oggi ci fermiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio Digitech, vi aspettiamo, non mancate